Il mio primo giorno di illustrazione dei bassi, la prima cosa da fare è scegliere lo strumento. C'è un po' di indecisione, stiamo discutendo con il nostro sound engineer. Sono indeciso se è un thunderbird, oppure un thunderbird, o forse un thunderbird. Alla fine abbiamo scelto il thunderbird. E' buona. E' buona. Sì, dimmi. Finalmente mi ha finito i bassi, adesso mancano solo le voci e mi tocca svegliare bene. Va che il leone si sveglia solo quando ha fame. Allora siamo qua con colui che mixerà il disco. Vai, Tomà. Ti piace Silvano? Sì.